John Borno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, dai vabbè ve l'avevo promesso che vi avrei aggiornato, vi ho aggiornato ragazzi Son è salvo, Son non farà la leva militare, spieghiamola bene perché poi ne avevo parlato già in un video precedente insomma lo avevate visto, lo avevate anche gradito la spiegazione, rispieghiamo perché ancora non sapeva nulla Son avrebbe dovuto insieme a tutti i suoi compagni andare a fare il servizio militare, andare a sostenere il servizio militare l'unico modo per evitare il servizio militare era una grandissima prestazione al mondiale o la vittoria dei giochi asiatici che appunto gli avrebbe permesso di esentarsi grazie ai meriti sportivi che appunto gli avrebbero consentito di non partire per fare appunto la leva militare l'ultima occasione era questa, la Corea che al mondiale ha fatto sinceramente bene, cioè io gli avrei dato i meriti sportivi dopo la partita contro la Germania i ragazzi hanno distrutto la Germania, i campioni del mondo della Germania portando la Corea all'attenzione di tutti quindi capite bene che forse già lì qualche merito sportivo l'avrebbero meritato al di là di questo, al di là di questo vanno a fare i giochi asiatici, faticano più di una volta in qualche gara fra l'altro affrontano sempre squadre secondo me inferiori alla Corea perché poi le squadre asiatiche forti sono quelle cioè sì c'è il Giappone, c'è la Corea ma ce ne sono veramente poche, ha avuto per me la fortuna di affrontare il Giappone solamente in finale perché secondo me se affronti il Giappone prima con l'esperienza che hai, con la pressione che tu ti fa fuori in finale tu devi vincere, devi vincere per evitare la leva e quindi sai che devi dare il tutto per tutto fra l'altro la decide un centravanti dell'Hamburgo e l'altro giocatore che è l'attaccante dell'Elas Verona ragazzi cioè la decide l'attaccante dell'Elas Verona, vince i giochi olimpici, ai supplementari io penso che i giocatori coreani erano tipo, non lo so io penso avrei avuto una paura pazzesca fra l'altro Son non segna, non decide la gara però si salva, si salva, Son quindi rimarrà al Tottenham fra le altre cose il Tottenham ha avuto anche un bel fegato a non trovare, magari a non cercare in estate già un futuro sostituto per Son perché comunque ragazzi qualora non avessero vinto i giochi asiatici era praticamente ufficiale che sarebbero andati a fare la leva e oggi, ma secondo me vi dico la verità il Giappone non era poi così favorito, secondo me non era, cioè il Giappone e la Corea il Giappone era molto più che favorito rispetto alla Corea-Giappone che è una squadra che negli ultimi anni è sempre, diciamo, va sempre a migliorarsi, va sempre a stupire anche nei vari magari mondiali o nelle varie coppe d'Asia che poi porta a casa sono contento, sono contentissimo per Son, sono contentissimo per Son che penso spezzare il sogno di un ragazzo che si è costruito ed è riuscito ad arrivare fino al Tottenham che al momento è una delle squadre migliori nel panorama calcistico, specialmente in prospettiva, per poi vedersi togliere tutto dalla dittatura coreana appunto dall'obbligo di fare la leva, forse diciamo non sarebbe andato poi così giù facilmente a Son fammi sapere la trova con un commento qua sotto, ti ringrazio come sempre per aver visto questo video mi piace, il video è piaciuto, dislike invece qualora ti avesse fatto cagare ma fammi sapere il perché mi raccomando iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto ti ricordo tra pochissimo sarò in diretta su questo canale con Pelle Gatti mi raccomando non perderti la diretta bocciolatala e come sempre ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao